bene ragazzi carichiamo un metafuse gamer oggi ragazzi siamo qui con un mino incredibile perché oggi ragazzi siamo in cotorro il stadium prima parte dell'argentina raga amicos argentinos no so trooste mos napolitano teniamo il sangue argentino come diego paradiego oggi argentina arabia saudita vedremo una grande ma una grande partita atmosfera incredibile non li vedo poco caldi caldi però magari all'interno dello stadio sarà diverso andiamo dentro a cazzeggiore ah ah Come si? Come si? Carabona è più grande che te ne Nessi che se sente E te ne In casa a tu papà Vamo vamo caraco Hermano Forza Argentina 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 Championship Che è questo? Messi o Ronaldo? Di mania Di Maria Vamo! Di mania Look who we found Fuse, it's good to meet you Fuse, yes Subscribe Forza Argentina Forza Argentina Maradona Napoli winning the Serie I don't know Oh, he doesn't like it It's too much Who's gonna win the World Cup? England I didn't go to Portugal England Or Argentina Or Argentina Or Argentina Great to meet you all the best It's a great legend Go subscribe to it Forza Arabia Vamo 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 è più grande che Maradona è la del Ibarco io di Napoli però Maradona è più grande Diego Hermanos, tenemos che fare il RITO Ad impatto proprio visivamente pure la struttura mi ricorda lo Stadium molto molto simile però questo sembra essere più grande Argentino è più grande è più grande è più grande anche con la canzone di Diego Maradona 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 è più grande è più grande è più grande Maradona Maradona far ragazzi non so per cosa forse il fallo al limite o qualche fallo di mano vediamo vediamo ma perché vai Leo 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 Go Sì Sì Vamo 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 Il re Il go Meglio Ronaldo Vai E' bello You are beautiful Che palletta di Leo mamma mia Vado che stiloscio Mamma mia ragazzi sta giocando solo Messi eh comunque grande Argentina con una rabbia ben costruita Vamo Vamo Ancora Leo Vamo Ancora Leo Il go Lo sapevo lo fa scoperto Un altro fuori gioco Ancora Sì te l'ho detto Un altro fuori gioco Un altro fuori gioco Vedo solamente di Maria Un pochino sotto tono perché per me di Maria la in mezzo è più forte Ovviamente oltre a Messi Quindi mi aspetto sempre un po' di più da Angel 1 a 0 Ma vediamo Messi qua Messi Abbiamo un messaggio per te Messi Te amo Messi 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 Frecchieriamo Messi Ci troppo presto Ha segnato la rabbia Non c'ho credo Se capite niente vai giù Appena ha cominciato il secondo tempo Caccia Marina Can Figlio di pu... Peccato peccato Lo aiuto Inmeritato onestamente Inmeritato Ma che cazzo però Non c'è capito veramente niente nel secondo tempo Due gol uno dietro l'altro Argentina sveglia adesso Messi di testa Vabbè entra raga è strecato Un peccato voglio veramente Non so adesso l'Argentina Se possa qualificarsi eh Perché adesso ci sono Messico e Polonia Che sono molto più forti dell'Arabia Ma comunque è partita che nel secondo tempo Non si è uscito proprio Dallo spogliatoio A me è sconfitta meritata Perché va a te schifo Un secondo tempo Ma io Si è venuta ampere Ha sconfitta l'Argentina Ma che cazzo Bene o io mi dispiace Però... Questo è il calcio Vedremo però nelle prossime due L'Argentina cosa farà Lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Calcio並i Dov blind i tuoi Ciao 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 Ciao